Per fare un buon lancio in avanti bisogna anche curare bene il lancio indietro, quindi bisogna evitare nel lancio indietro, nel momento degli scarichi, che ci siano delle rotazioni nella mano, nel polso. Per evitare che ci siano le rotazioni un aiuto oggettivo può essere quello di, nel lancio indietro, quando vado a creare lo stop, di seguire verso l'alto un attimino, con la mano andare leggermente verso l'alto e per avere un valore oggettivo e capire che lo sto facendo basta seguire linearmente la lenza che tengo nelle mani. Quindi quando vado indietro, nel momento che vado indietro faccio questo lavoro, seguo praticamente una linea retta, questo mi favorisce prima di tutto che la coda va verso l'alto e poi che sicuramente in questo modo la vetta va avvicinare la coda sotto, vicino alla coda sopra che corre e quindi mi stringe il lupe perché anche indietro la vetta corre su una linea, una linea retta e non fa delle rotazioni che si può fare anche lentamente e si vede la mano che corre linearmente sulla lenza e di conseguenza la vetta ha un percorso rettilineo. E poi da questo lancio indietro, curato e corretto, viene fuori un lancio in avanti altrettanto buono. Quando tu fai un lancio e blocchi subito la mano, fai questo, pam e blocchi, cosa succede? Da dietro parti, la coda è dietro, la canna è flessa dietro, parti in avanti e ti blocchi. Quindi hai fatto un'escursione cortissima, la coda passa davanti velocemente perché? Perché bloccandoti tu hai frenato la parte sotto e hai dato accelerazione alla parte sotto. La difficoltà del controllo è riuscire a distribuire questa frenata nello spazio. Allora non è più pam e mi fermo ma quando faccio questo, faccio questo, devo essere capace a portarlo avanti trattenendo, non è un voglio entrare di brutto, è tu quando ho fatto questo trattengo, è come se tenessi la coda sotto, la tenessi quella sopra, piglia velocità e io l'accompagno, l'accompagno, l'accompagno controllando. Ecco questa è la differenza che ha trovato Marino come soluzione. Che non è una cosa gettata ma è una cosa che controlli e il controllo cos'è? È questo stop che viene distribuito nello spazio, viene distribuito nello spazio e quindi questo stop non è più uno stop ma è un controllo della frenata che ti permette di fare quello che vuoi poi, di far arrivare la mosca, farla appoggiare, di fermarla prima, di far crollare il sistema ma è gestire il tuo stop che hai imparato facendo stop, la coda va facendo i vari 1 a 11, 1 a 11, tan tan hai imparato gli stop, 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 poi quando sei bravo il tuo stop diventa pam e lo porto, lo freno, lo freno e lascio la mosca che si appoggia, ok Alder, su quello che devi lavorare, va bene, grazie, hai un'accelerazione e poi hai un rallentamento che viene ancora accentuato sul fatto che alziamo leggermente la mano verso l'alto, leggermente, basta poco, poi dipende dal lancio che si fa, basta poco, vado su appena quello che mi serve, questo mi dà quell'attimo di stop, non stop che mi permette poi di partire in avanti con subito tensione, quando parto in avanti ho subito tensione, non ho un vuoto, sento che la vetta è carica, senza piegare il polso in quel momento, quando parto in avanti con la vetta carica, se ho la vetta carica subito, mi basta poco spazio, invece che dover andare avanti perché non ho ancora carico sulla vetta, mi basta poco spazio e quella prende subito, come io sono qua, so che parto subito col carico, quindi mi basta poco, se poi chiaramente con la mano accompagno il lancio, riesco a diluire quello stop e lo faccio diventare un rallentamento e un controllo, quando vado in avanti, dopo che ho fatto questo, basta accompagnare con la vetta in maniera rettilinea e quella va via pulita, senza fare onde, bella pulita, con calma e posso controllare, controllo anche, posso rallentare, fermare, appoggiare, posso velocizzare, posso fare quello che voglio, posso curvare, fare andare la coda come decido perché in quel tratto ho la possibilità di controllare, ok? Grazie. Ora vivo il braccio dietro quando segue la coda come dicevamo prima, cioè quando noi vediamo il braccio dietro, quando sei qua il ragazzo dietro, quando vuoi quand'è qua che vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro, sempre a seguire, vai a seguire, quando sei arrivato qua che segui, ritorni vicino, ritorni vicino, quindi ritorni indietro e vai. Tu, quindi là, ritorni, tiri, tiri, tiri e vai. Ok, guarda.